Il percorso che porterà ad una completa riscrittura dell'attuale sistema tributario è cominciato. Il via lo ha dato ieri il Consiglio dei Ministri, approvando il disegno di legge delega per una sostanziale riforma del fisco. È stata disegnata la cornice, ma al suo interno tutto deve essere ancora scritto. Occorreranno non meno di due anni di iter parlamentare che si preannuncia già difficile e tortuoso. L'idea di riforma presentata dal governo Meloni prevede interventi di riduzione e razionalizzazione dei tributi, primo tra tutti l'imposta sul reddito delle persone fisiche, l'IRPEF, che rappresenta la voce più importante e consistente della nostra struttura di tassazione vecchia, ormai di 70 anni. Da subito scenderà da 4 a 3 aliquote per arrivare, a fine legislatura, ad una tassa piatta uguale per tutti o quasi. Al momento sono due le ipotesi in campo. La prima prevede l'accorpamento degli scaglioni centrali, con un'unica aliquota al 27% per i redditi tra i 15 e i 50 mila euro. Verrebbero poi mantenute quella del 23 per i redditi fino a 15 mila euro e del 43 per quelli più alti. I vantaggi maggiori in questo caso sarebbero in particolare per chi guadagna oltre 35 mila euro l'ordi all'anno. La seconda ipotesi prevede invece l'estensione della fascia minima ai redditi fino a 28 mila euro, che salirebbe al 33% per quelli fino a 50 mila, resterebbe poi il 43% per chi guadagna di più. In questo caso i vantaggi sarebbero in proporzione per tutte le fasce di reddito, ma questa seconda alternativa avrebbe un impatto decisamente maggiore per le casse dello Stato. Nel disegno di legge delega, approvato dal CDM, anche l'ok del governo, salvo intese alla realizzazione del ponte sullo stretto di Messina. Si riparte dunque dal progetto presentato nel 2012, ma devono essere completamente riscritti tutti gli aspetti tecnici.